Come fare per eseguire questo esercizio? Andiamo a distenderci con la schiena sul nostro tappetino, quindi andiamo a rilassare completamente le spalle e la testa. Teniamo le gambe piegate con la pianta dei piedi in appoggio sul pavimento. Andiamo a spingere le braccia in alto e unisco palmo destro e palmo sinistro, anche le mie gambe sono unite. In contemporanea lascio cadere le braccia e la testa sul lato destro e le gambe sul lato sinistro, quindi faremo questo. Lentamente vado e rimaniamo in questa posizione. Naturalmente mentre si scende con le braccia, il braccio superiore si accorcerà, in quanto io sono ruotata sul fianco. Quindi mantengo questa posizione, cerco di tenere l'orecchio destro ben poggiato al pavimento e di schiacciare al massimo tutte e due le gambe verso sinistra, quindi il lato opposto. Lentamente ritorno nella posizione di partenza e vado a fare la stessa cosa sul lato opposto. Quindi farò cadere braccia e testa sul lato sinistro e le gambe sul lato destro, quindi andremo a girarci in questo modo. Cerco di tenere sempre l'orecchio sinistro ben poggiato al pavimento e tutte e due le gambe ben ruotate e poggiate se ce la faccio al pavimento. Torniamo su e saliamo con calma alla nostra posizione di partenza. Ciao e buon allenamento! Ciao e buon allenamento!